buongiorno buongiorno ciao ragazzi ciao amici hobbisti amanti del fai da te per chi non mi conosce sono elio dante e vi do il benvenuto nel mio piccolo laboratorio andiamo subito al dunque e da più di un anno che utilizzo queste chiavi acquistate al lidl chiave a facchetta e da questa parte a cricchetto se volete sapere il resoconto finale di tale chiave seguitemi sigla e se il tutto vi è piaciuto mi piace mi piace mi piace e l'iscrizione è assolutamente gratuita quindi sigla amici hobbisti queste sono le chiavi che io utilizzo nel mio piccolo laboratorio da un anno e mezzo circa sono chiavi da come ben vedete chiave a forchetta e chiavi a cricchetto e chiavi vengono vendute a pacchetti da 5 chiave da 8 mm chiave 10 mm 13 mm 14 mm e 17 mm come detto all'inizio chiave power fix chiave che io assolutamente utilizzo a livello hobbistico la chiave è ben fatta mi sembra molto resistente come notate dal video la chiave ancora bella bella cromata la chiave a cricchetto a questa funzione quando devo stringere invece quando devo allentare basta girare la chiave che funziona al contrario di che materiale è fatta la chiave calamita però vi posso garantire che la cromatura della chiave è veramente ben fatta e ancora adesso non ho nessunissimo problema di ruggine un'informazione che sicuramente molto importante ma mi dispiace non mi ricordo più è il prezzo il prezzo di queste cinque chiavi non ricordo quanto le ho pagate però secondo me siamo intorno alle 10 euro e quindi per l'utilizzo che faccio io io l'utilizzo per smontare magari qualche bicicletta o per lavorare sulla mia motoretta mi ha sempre soddisfatto poi ragazzi c'è la praticità della chiave la chiave fissa è la classica chiave normale però la parte cricchetto come ben vedete è a cricchetto ma è anche snodabile quindi in alcuni frangenti ci potrebbe essere veramente d'aiuto ragazzi cosa dirvi di più di queste chiavi ripeto il prezzo non non me lo ricordo più non gli avevo dato tantissimi soldi però per l'utilizzo che faccio io a livello hobbistico le chiavi sono assolutamente funzionali quindi se quindi se avete l'occasione di trovare queste chiavi nelle scafali lidl a prezzo super competitivo pensateci bene ripeto io lo sto le sto utilizzando da più di un anno e mezzo e sono e sono solo molto molto soddisfatto amici hobbisti ragazzi miei il mio video termina qui per chi ha trovato interessante questa piccola recensione sulle chiavi che io utilizzo nel mio piccolo laboratorio mi fa assolutamente piacere mi fa assolutamente piacere i mi piace mi piace mi piace e ragazzi miei le visualizzazioni sono veramente tante 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 le iscrizioni un pelino meno quindi se vi volete scrivere l'iscrizione assolutamente gratuita e mi dai la per continuare a fare questi miei piccoli video ragazzi da elio dante termino qui un saluto e statemi tutti bene ciao ragazzi da elio dante basta la vista grazie a tutti